Anima meravigliosa! Che differenza c'è tra le nuove frequenze di luce e le vecchie energie di guarigione? Le nuove frequenze di luce comprendono tutte le energie benefiche fino ad oggi conosciute, ma si espandono in un nuovo livello vibratorio che la scienza chiama luce ed informazione. Queste nuove frequenze di luce portano equilibrio laddove c'è disequilibrio, portano armonia dove c'è disarmonia e tu potrai avere beneficio in tantissimi livelli, fisico, mentale, emozionale e spirituale, laddove tu hai bisogno, in quanto questa è una forza intelligente. Ma cosa contraddistingue queste nuove frequenze di luce? Ad esempio dal reiki, dal pranichiling o dalla pranoterapia? Allora, le vecchie modalità di guarigione come il reiki e la pranoterapia sono molto più forti con la vicinanza nel corpo, esse vengono canalizzate e vengono inviate al ricevente. Le nuove frequenze di luce sono più potenti con la distanza, si lavora lontano dal corpo e più ci si allontana e più esse si espandono. È una cosa incredibile ma è reale e io te lo posso dimostrare. Vuoi provare? Dammi tre minuti del tuo tempo, però prima di iniziare faremo una preghiera all'arcangelo Michele in quanto questo lavoro con le nuove frequenze di luce che io propongo è un lavoro con la guida e l'assistenza e la massima protezione dell'arcangelo Michele affinché tu possa ricevere il massimo potenziale di queste meravigliose frequenze. Iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Dea onnipotente, padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le persone che con tanto amore mi seguono. Invoco te arcangelo Michele, maestro Gesù, coscienza micaelica, Maria Regina Celeste e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di tagliare tutte le corde egoiche di paura tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita sulla terra, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo spazio. Arcangelo Michele ti chiedo di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea onnipotente, padre e madre. Chiedo massima guida ed assistenza per me e per tutte le persone coinvolte. Grazie caro Dio, grazie arcangelo Michele, grazie al maestro Gesù, grazie coscienza micaelica, è fatto, è fatto, è fatto e così è e così sia ora per sempre e per l'eternità. Ebbene ora ti chiedo di mettere o la mano destra o la mano sinistra al centro dello schermo, se sei una persona molto razionale, chiudi gli occhi e datti il permesso di sentire con un senso diverso. Ora io inizierò ad interagire con le nuove frequenze di luce e tu le sentirai e le percepirai nel modo più giusto per te, per il tuo massimo bene. Potresti sentire calore, magnetismo, dei piccoli sfilli, vento, come un elastico. Ognuno ha un modo di sentire in maniera diversa. Riesci a percepirle? Se non riesci chiudi gli occhi. Ora sei pronto, sei pronta per sentire come esse si espandono? Riesci a sentire l'espansione? Ebbene questa non è solo energia, questa viene chiamata luce ed informazione. È un lavoro nuovo, è un lavoro diverso da quello che già conosci, è molto più potente e porta beneficio in tantissimi livelli, fisico, mentale, emozionale, spirituale, laddove tu hai bisogno. Bene, anima infinita, mi farebbe infinitamente piacere che tu mi lasciassi un commento e mi raccontassi la tua esperienza personale. Se sei interessato o interessata ad avere maggiori informazioni, non esitare a contattarmi. Io ti saluto e ti auguro una giornata piena di luce e di amore. A presto, ciao!